Buongiorno. La puntata di World Wide Law di questa settimana è divisa in due parti. La prima è dedicata al conflitto tra Israele e Hamas e nella seconda invece ci raggiungerà Ludovico Zanette per parlarci di come la propaganda filoputiniana sia riuscita a impermeare anche alcuni libri di scuola rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori. E poiché questa rubrica si concentra principalmente sulla stampa internazionale, negli ultimi giorni la notizia giornalisticamente più interessante è l'indagine della rivista israelo-palestinese Plus 972 Local Call a filma del reporter Yuval Abraham, il quale ha rivelato l'esistenza di Lavender, un programma di intelligenza artificiale sviluppato dall'esercito israeliano per dirigere attacchi mirati su Gaza. Secondo fonti dell'intelligence, infatti, il programma Lavender avrebbe avuto un ruolo cruciale nei bombardamenti, targetizzando migliaia di palestinesi come bersagli. Il sistema, che registra, o quantomeno dovrebbe registrare sospetti militanti di Hamas o della jihad islamica palestinese, avrebbe portato a decisioni di attacco quasi automatizzate. Ma come funziona di preciso questa macchina da guerra pilotata dall'intelligenza artificiale? Ne scrive appunto 972 questa settimana. E queste sono le parole dell'articolo che voglio leggere insieme a voi. Formalmente il sistema Lavender è progettato per contrassegnare tutti i sospetti operativi delle ali militari di Hamas e della jihad islamica palestinese, anche quelli di basso rango, come potenziali obiettivi di attacchi targetizzati. Le fonti hanno riferito alla rivista che durante le prime settimane della guerra l'esercito israeliano si è affidato quasi completamente a Lavender, che ha registrato ben 37.000 palestinesi come sospetti militanti e segnalato le loro case per possibili attacchi aerei. Durante le prime fasi della guerra, continua l'articolo, l'esercito israeliano ha dato ampia approvazione agli ufficiali per l'adozione di liste di bersagli generate da Lavender senza alcun obbligo di verificare a fondo il motivo per cui la macchina aveva fatto quelle scelte e senza soprattutto esaminare i dati grezzi di intelligence su cui si basava la macchina. Una fonte ha dichiarato che il personale umano serviva solo come timbro di garanzia per le decisioni già prese dalla macchina, aggiungendo che di solito dedicava personalmente solo 20 secondi a ciascun obiettivo prima di autorizzare un bombardamento solo per assicurarsi che l'obiettivo contrassegnato da Lavender fosse di sesso maschile. Questo, riporta l'articolo, nonostante sia noto che il sistema commette quelli che vengono considerati errori in circa il 10% dei casi e che è noto per contrassegnare occasionalmente individui che hanno solo un legame debole con i gruppi militanti oppure nessun legame proprio. Inoltre, continua così l'articolo che ha fatto scalpore questa settimana, l'esercito israeliano ha sistematicamente attaccato le persone prese di mira mentre si trovavano nelle loro case, di solito la notte mentre erano presenti tutte le loro famiglie, piuttosto che durante le attività militari. Secondo le fonti questo avveniva perché, da quello che consideravano un punto di vista di intelligence, era più facile localizzare gli individui nelle loro case private. Altri sistemi automatizzati, tra cui uno chiamato Where's Daddy, la traduzione in italiano di Dov'è Papà, anch'esso rivelato dalla rivista 972 Plus per la prima volta, sono stati utilizzati specificamente per rintracciare gli individui presi di mira ed effettuare attentati quando erano entrati nelle loro residenze familiari. E l'articolo conclude dicendo che il risultato, come testimoniato dalle fonti, è che migliaia di palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini o persone comunque non coinvolte nei combattimenti, sono stati spazzati via dagli attacchi aerei israeliani, soprattutto nelle prime settimane di guerra, a causa delle decisioni del programma di intelligenza artificiale. E c'è da dire che proprio nella giornata di ieri il Guardian ha aggiunto uno scoop a questa indagine, rivelando la mente che ci sarebbe dietro a questo progetto. Si tratterebbe, secondo l'indagine del Guardian, del comandante dell'unità 8200 israeliana Yossi Sariel, la cui identità prima dell'articolo del Guardian pubblicato ieri pomeriggio poteva considerarsi un segreto ben custodito agli altipiani del governo israeliano. Sariel, che ha guidato una delle più potenti agenzie di sorveglianza al mondo, è stato scoperto dal Guardian a causa di una falla di sicurezza legata alla pubblicazione di un libro su Amazon. Il libro, The Human Machine Team, offre una versione radicale di come l'intelligenza artificiale possa trasformare la guerra. E, benché pubblicato sotto pseudonimo, ha lasciato al proprio interno, beffa davvero grande dobbiamo dirlo per un capo dell'intelligence, tracce digitali che riconducevano l'autore all'account personale Google di Sariel. E il Guardian effettivamente esplora le implicazioni di questa rivelazione, evidenziando come l'unità 8200, una volta rinomata per le sue capacità di intelligence, sia stata effettivamente negli ultimi mesi criticata per non avere previsto e nemmeno impedito l'assalto mortale di Hamas il 7 ottobre scorso, più concentrata negli ultimi tempi a dare sfoggio di tecnologie innovative che a seguire le strade più tradizionali e sicure dell'intelligence. E prima di passare al secondo tema di questa giornata vorrei segnalarvi e leggervi parte di un'analisi che io ho trovato molto interessante, pubblicata questa settimana da Daniel Byman, uno dei principali ricercatori mondiali sul terrorismo e il Medio Oriente, professore alla Walsh School of Foreign Service della Georgetown University, pubblicata su Foreign Affairs e dal titolo, che vedete in questo momento sullo schermo, Bloccati a Gaza. E riassumendo, l'articolo ricorda che sei mesi dopo il massacro del 7 ottobre da parte di Hamas, Israele sembra essere ancora senza una strategia efficace e nonostante i duri colpi inferti ad Hamas, il gruppo rimane lontano dall'essere distrutto e Israele appare intrappolata in una campagna militare che porta solo a progressi incrementali e a un costo enorme. La guerra ha avuto un prezzo elevato con oltre 32.000 palestinesi morti, molti dei quali bambini, e più di 1,7 milioni di persone sfollate. La crisi umanitaria si aggrava di giorno in giorno con la popolazione a rischio di fame e di malattie che aumenta sempre di più. Un approccio, quello di Israele, ricorda Byman, che sta danneggiando la sua reputazione internazionale. Critiche crescenti, infatti, provengono dall'Europa e dagli alleati arabi con l'Arabia Saudita, che ora condiziona la normalizzazione delle relazioni con Israele all'accordo per l'esistenza di uno Stato palestinese. E anche il sostegno degli Stati Uniti, ricorda Byman, è in calo con un netto declino dello sguardo di favore tra i giovani americani nei confronti di Israele. E il presidente Biden, inizialmente a favore di Israele, sta diventando sempre più critico. La debolezza politica del governo Netanyahu, così conclude l'articolo, ha profonde conseguenze poi sulla lotta contro Hamas. Le proteste antigovernative e le accuse di corruzione contro Netanyahu influenzano la politica interna israeliana. E senza una strategia chiara per il dopoguerra e la gestione di Gaza, Israele, così conclude Byman, potrebbe rimanere a lungo nel territorio con un conflitto che si trasformerà in una guerra limitata ma continua. La speranza, dunque, è che la situazione umanitaria migliori e che Israele possa riprendere i dialoghi per la normalizzazione con l'Arabia Saudita e rafforzare i suoi legami con Washington. Così, dunque, l'articolo di questa settimana sul Foreign Affairs. Prima di passare alla seconda parte della trasmissione, però, permettetemi di anticipare ad ora il consiglio di lettura di questa settimana, che è un breve saggio di Neve Gordon e di Muna Haddad per il New York Review of Books e che si intitola La strada verso la carestia a Gaza. È uno scritto che discute la grave crisi umanitaria a Gaza, dove le azioni del governo israeliano stanno portando alla fame e alla malnutrizione di massa, con un blocco che impedisce l'ingresso di aiuti e il bombardamento di infrastrutture vitali, provocando una situazione senza precedenti nel ventunesimo secolo. Ma, e questa è la parte più importante dell'articolo, chiaramente, una situazione che affonda le sue radici nella storia di Israele, che, a dire degli autori di questo saggio, è USA ad avvalersi del cibo come arma nei confronti dei palestinesi. Passiamo ora alla seconda parte di questa trasmissione, perché ci ha raggiunto in questo momento, ed è con noi Ludovico Zanetti, il quale ha scritto un lungo articolo per il sito di Liberi Oltre le Illusioni, nel quale ha messo in luce come alcuni libri di scuola, segnatamente libri di geografia e di geostoria rivolti agli studenti di scuole medie e superiori, sposino tesi che dal punto di vista storico non sono esattamente corrette, che anzi sembrano essere coerenti con la propaganda filo-putiniana. Buongiorno Ludovico e grazie di essere qui. Dicci un po' cosa hai scoperto. Beh, innanzitutto grazie a te, Marco. Come dicevi, sì, si tratta di libri scolastici, il merito non va a me, ma va senz'altro a Mariana Trofimova, che qualche settimana fa, qualche mese fa, aveva fatto un thread su Twitter, che potrete trovare anche in contenuto all'interno dell'articolo pubblicato su Liberi Oltre, in cui mostrava delle foto prese da diversi libri scolastici, utilizzati soprattutto nelle scuole medie di diverse città italiane, italiane, stiamo parlando di libri di geografia, avrei dovuto precisare, in cui, diciamo, si mostrano tutta una serie di tratti e affermazioni completamente false, in altri casi delle omissioni abbastanza grave, in altri casi delle mezze verità o distorsioni, che non sono, diciamo, errori randomizzati casuali, no? Sono tutti a senso unico, cioè nel senso che tutti questi fattori, diciamo, tendono a spingere una narrativa, una narrazione, scusate, molto vicina a quella che è, diciamo, quella che è stata nel corso dei decenni o dei secoli anche la narrativa, la narrazione, la propaganda russa per quanto riguarda non solo l'Ucraina, ma, diciamo, tutta la regione dell'Europa orientale. Questa è la cosa, diciamo, importante da capire. Poi, l'approfondimento viene fatto, soprattutto sull'Ucraina, visti i fatti correnti, ma non ha a che fare solo con l'Ucraina, ecco. La cosa che è interessante da dire di questi libri è che, ovviamente, le informazioni non sono contenute tutte in un punto, no? Cioè, non è che c'è una pagina in cui tu trovi tutte queste informazioni raccolte. Sono, diciamo, sparse in diversi pezzi, no? E alcune sono, a volte, anche in contraddizione con l'una e con le altre. Ma la cosa importante è che possiamo trovare una serie di narrazioni, nell'articolo individuati circa quattro, quattro anzi, e la prima di queste è quella che esiste una cosa chiamata regione russa, che comprende non solo il territorio della federazione russa, ma anche quello della Bielorussia, della Moldova, dell'Ucraina e dei paesi baltici, quindi di Estonia, Lettonia e Lituania. Ora, il termine regione russa non esiste dal punto di vista geografico, cioè non esiste geograficamente una cosa chiamata regione russa. Il territorio della federazione russa si estende, come sappiamo, attraverso due continenti, quello europeo in parte e poi per la maggior parte in quello asiatico, no? Quindi anche lì non esiste l'Europa orientale, esistono i paesi baltici, ma la regione russa non esiste dal punto di vista geografico. Ma invece quello che si dice, quello che si tende a dire in questi libri è che ci sia questa regione russa, in cui esiste una cultura, un mondo russo, che è la cultura che questi paesi hanno in comune. Ad esempio, uno di questi libri, Namaskar 2, dice che in questi paesi, questi paesi si caratterizzano per uno stretto legame fra identità nazionale e religione cristiana ortodossa. Abbiamo visto un fatto completamente falso, perché di questi paesi che abbiamo elencato, tre non sono ortodossi. Ad esempio l'Estonia e la Lettonia sono due paesi tradizionalmente luterani, la Lituania è un paese cattolico e se anche uno guarda all'Ucraina, per quanto l'Ucraina sia a maggioranza un paese ortodosso, se uno vuole, diciamo, andare, se uno conosce un po' la storia del nazionalismo ucraino, sa benissimo che è molto difficile, diciamo, separarlo invece da quella che è la storia della chiesa uniata e della chiesa greco-cattolica, che è una chiesa cattolica di rito orientale, no? Quindi l'idea del legame stretto fra ortodossia e nazionalità è una cosa che riguarda prevalentemente la Russia e un certo tipo di nazionalismo russo, ad essere precisi. Quindi estenderlo a tutta la regione, a questa supposta regione, è completamente assurdo. Poi ci sono anche delle cose abbastanza, davvero quasi ridicole, nel senso che in uno di questi libri, che si chiama Kathmandu II, vengono riportate alcune immagini dei luoghi simbolo della regione, no? È una cosa tipica nei libri di geografia delle scuole, no? Peccato che i luoghi simbolo che vengono mostrati sono, ad esempio, la foresta di Bialoviesa, che è in Bielorussia e in Polonia, la chiesa di Santa Sofia a Kiev e il centro storico di Liga. Nessuno di questi luoghi si trova in Russia, però vengono messi come luoghi simbolo della regione russa. Peraltro, nessuno di questi luoghi ha niente a che fare con la dominazione russa di questi territori. Nel senso che non sono... il centro storico di Liga è del periodo della Lega Anseatica, la chiesa di Santa Sofia di Kiev è del periodo medievale, dei kingi di Russo, quindi non ha niente a che fare con la Russia, no? Addirittura su un altro libro, su Aral II, anche questo, si legge che i paesi di questa regione hanno in comune molte caratteristiche linguistiche, tra cui l'uso dell'alfabeto cirillico. Ancora una volta, la maggior parte di questi paesi non usano l'alfabeto cirillico. Estonia, Lettonia, Lituani, Moldova usano l'alfabeto latino, quindi solo Russia, Bielorussia e Ucraina usano l'alfabeto cirillico, ma l'alfabeto cirillico non è russo, non è una prerogativa del russo che viene usata anche da altre lingue, viene da tutta altra storia, come probabilmente chi ci ascolta sa e che se vuole può approfondire. E infine la parte più, devo dire, quasi, non dico offensiva, ma c'è un pezzo in cui come esercizio viene dato all'alunno quello di organizzare un viaggio in Russia, questa è una citazione testuale, e lo studente deve calcolare la distanza fra delle città in Russia, e tra le città in Russia troviamo Tallin, che è in Estonia, Odessa, che è in Ucraina, Riga, che è in Lettonia, Vilnius, che è in Lituania, insomma Kiev, Viv, Kharkiv, tra l'altro tutte le città ucraine sono scritte con lo spelling russo, non solo Kiev scritto Kiev invece di Kiev, ma anche cose tipo Lvov invece di Lviv, o Leopoli, in italiano c'è Leopoli perché non usare Leopoli, no? Quindi sì, c'è un po' questa, questo è una, diciamo, la prima, il primo capitolo, diciamo, se vogliamo, nelle imprecisioni di questi testi. Poi ci sono le imprecisioni sui referendum del 2014 che a mio parere sono ancora più gravi, Allora sì, la prima cosa da capire è che tutti questi libri mostrano la Crimea come parte della Federazione Russa. Come lo fanno? Nel senso che quando c'è la scheda del paese, il paese è Federazione Russa, nel dato sull'estensione, sulla superficie del paese e della popolazione viene inclusa la Crimea, viene proprio scritta inclusa la Repubblica di Crimea e Sebastopoli, no? Quindi viene fatta questa cosa qua. E tutti questi libri scrivono più o meno appunto questa storia qui, e cioè che nel 2014 la Crimea si è separata dall'Ucraina a seguito di un referendum ed è stata poi annessa dalla Federazione Russa. Non si dice che il referendum non è riconosciuto dalla comunità internazionale, ma non si dice però che è un atto completamente illegale che è avvenuto a seguito di un'invasione armata, di un'occupazione, che è un referendum fasullo peraltro, bisogna ricordare, cioè non è un referendum in cui la gente davvero ha votato, eccetera, è un referendum fatto sotto occupazione armata. E soprattutto che si tratta di una gravissima violazione del diritto internazionale e dell'unico caso dal 1945 ad oggi in Europa, di un paese che ne invade un altro, ne occupa il territorio e lo annette. Ecco, tutto questo non viene detto. Un libro addirittura, che mi pare sia La via della seta, che è un nuovo programma, un pochino, non dice nemmeno che il referendum non è riconosciuto dalla comunità internazionale, dice che non è riconosciuto dal governo ucraino, no? E ancora una volta, è interessante, anche lasciandolo solo alla comunità internazionale, anche non dicendo che è illegale, è interessante che la scelta degli autori sia quella di dire questo territorio è stato annesso contrariamente a quello che dice la comunità internazionale, noi scegliamo però di mostrarlo come parte della Russia. È una scelta di campo abbastanza, insomma, grave. E soprattutto consideriamo, questi sono libri delle medie, le persone che leggono questi libri sono di 11-12 anni probabilmente, no? Ecco. E poi, diciamo, ci sono anche tutta una serie di altre imprecisioni, cioè ad esempio si dice che la Crimea era abitata principalmente da popolazione di nazionalità russa, non chiarendo cosa si intenda per nazionalità, e cose di questo tipo, ecco, nel caso della Crimea. E poi ci sono le solite bugie sulla presunta guerra civile che sarebbe in corso in Ucraina e sui conflitti etnici. Come dicevi tu, sì, il racconto è più o meno quello, attraverso, diciamo, in tutti i testi il racconto è più o meno quello, cioè si rappresenta l'Ucraina come un paese profondamente diviso lungo linee etniche, cioè ci sono due lungoline etniche, scusa, riparto. Sì, come dicevi tu, l'Ucraina viene presentata come un paese diviso lungo linee etniche con due gruppi, quello russo e quello ucraino, che è un fatto assolutamente non vero, cioè in Ucraina fare, diciamo, la divisione, l'idea che ci siano due gruppi etnici divisi facilmente riconoscibili è una cosa completamente assurda, non è così, anche perché la linea etnica e quella linguistica non corrispondono e si sovrappongono, quindi non ha assolutamente senso. Gli ucraini, nella maggior parte dei casi, non si percepiscono etnicamente e la Costituzione ucraina stabilisce la cittadinanza su un principio civico, non su un principio etnico, quindi chiunque abitava in Ucraina alla caduta dell'Unione Sovietica era ucraino, a prescindere dalla propria etnia. Questo è una cosa importante da ricordare. Invece tutti questi libri tendono a puntare su questa questione di questa divisione etnica profonda che è sempre stato un problema dell'Ucraina, che è un fatto completamente inventato in realtà. Al contrario, quando si parla della Russia, si parla di come in Russia invece convivano in armonia etnie diverse fra di loro, che vengono però in qualche modo integrate nella società. Quindi c'è anche il controfattuale, o meglio, c'è in un libro, non in tutti quanti. Negli altri, semplicemente questa descrizione del conflitto etnico in Ucraina, che come sappiamo non c'era, in Ucraina non c'è mai stato un conflitto su base etnica. C'è stata una cosa molto diversa che è un conflitto iniziato dalla federazione russa attraverso un'infiltrazione dei territori dell'Ucraina orientale, di Donetsk e di Luhansk, che ha fatto anche uso, è vero, di piccole percentuali di popolazione locale che era disposta a combattere per la federazione russa, ma quasi sempre guidata da forze russe, armata, finanziata interamente dalla Russia. L'idea che ci fosse un movimento popolare favorevole alla secessione in Ucraina non è affatto vero e l'idea che ci fosse una componente etnica o linguistica in questo anche non è particolarmente vero. Quindi il fenomeno viene completamente snaturato. E poi la cosa ancora più grave, secondo me, è che in uno di questi testi, che si chiama La via della seta, nel raccontare i fatti del 2014 di Euromaidan, che vengono ancora una volta diti come uno scontro tra est e ovest del paese, che non è un fatto, anche questo, vero. Maidan c'era in tutte le città dell'Ucraina, ovviamente più a Kiev, ma esisteva anche a Donetsk. Non si parla, si dice che ci sono state delle proteste e degli scontri, non si dice tra chi, non si dice chi era coinvolto, non si parla della repressione delle proteste, delle cittadine di morti. E ancora una volta, esempio, il ruolo della Russia viene descritto come quello di protezione nei confronti di presunti separatisti filorussi, no? E quello dell'Unione Europea viene descritto come quello di soffiare sul fuoco e aver fatto aggravare la crisi, che devo dire è abbastanza grave, no? Perché, insomma, qui non si parla nemmeno semplicemente di stravolgere la visione dell'Ucraina, ma di tutta l'Unione Europea, di cui fa parte anche l'Italia. E in ognuno di questi libri addirittura si parla della guerra in Donbass tra il 2014 e il 2022 come un conflitto tra diverse regioni del paese, ancora una volta fatto completamente assurdo, è un conflitto tra l'esercito ucraino e la federazione russa, in cui la federazione russa fa uso anche di milizie reclutate nei territori occupati in Ucraina, ovviamente. E poi un altro ancora, questo mi ha lasciato davvero abbastanza sconvolto, sempre in questo libro Via della Seta, che continuo a citare, in un paragrafo si dice che è ipotizzabile che presto l'Ucraina possa cessare di esistere come paese indipendente e unitario. E se ne prospetta la divisione in, cito testualmente qui, fette di territorio controllate da diverse fazioni in guerra simile a tanti paesi dell'Asia centrale, Iraq e Afghanistan in testa. Anche qui tanti paesi dell'Asia centrale in guerra, non è che sono così tanti, voglio dire, però vabbè, al di là di quello. Anche questa è una storia completamente assurda, nel senso, ancora una volta, ci sono diversi gruppi in guerra fra di loro, la guerra civile all'interno del paese. Ancora una volta si tende a imporre questa visione del conflitto etnico, civile, eccetera, che magari proviene da altri contesti e metterlo a forza in quell'Ucraino. Io non posso dire ovviamente se per ignoranza o per malafede, non lo so, però questo diciamo è quanto viene fatto. Se si guarda l'Ucraina nel contesto europeo, l'Ucraina è indubbiamente un paese povero per gli standard europei, è uno dei paesi più poveri a livello, per capito ovviamente, dell'Europa. Questo non c'è dubbio. Ma il libro non tende a parlare di questo, tende a presentare l'Ucraina come un paese antiquato, arretrato e soprattutto in continuo peggioramento, cioè l'idea che viene descritta di un paese senza speranza, in cui tutto va sempre peggio. E soprattutto che la causa di questo viene sempre, diciamo, non viene esplicitamente detto, ma viene quasi sempre legata al fatto che l'Ucraina non è indipendente energeticamente, da quando si è separata dalla Russia, come la dicono loro, cioè al fine dell'Unione Sovietica, le cose sono sempre andate peggio. L'Ucraina è un paese estremamente corrotto, con una classe politica non, diciamo, molto corrotta che fa l'interesse di pochi. Questa è la narrazione che viene fatta dell'Ucraina. Ovviamente non è vero e non sarebbe assurdo sostenere che in Ucraina non ci siano stati enormi problemi di corruzione, che ci sia stata per molti anni una classe politica legata a Mosca, sottolineato, che non faceva gli interessi del paese e via dicendo. Ma non si parla un po' di quello che è stato anche, diciamo, i progressi a volte difficili che ha fatto il paese, soprattutto dal 2014 ad oggi, no? E diciamo nello spingere questa narrazione si citano spesso dei fatti o dei dati completamente assurdi. Ad esempio questo libro Namaskar mostra che il PIL dell'Ucraina sarebbe di 60 miliardi. Ora, il libro è del 2018. Nel 2018 il PIL dell'Ucraina era 150 rotte miliardi. Quindi più del doppio. Nel 2021 era di 200. Quindi proprio anche i dati, no? Sono completamente assurdi. Sempre nello stesso libro poi cita la difficoltà economica dell'Ucraina come conseguenza del fatto che l'Ucraina, avendo la Russia come principale partner commerciale, dal 2014 in poi ha avuto un'estrema, diciamo, crisi economica per questo fatto qui, no? Peccato che la Russia non sia il principale partner commerciale dell'Ucraina dalmeno dal 2012 ad oggi. Il principale partner economico commerciale dell'Ucraina è l'Unione Europea, da più o meno dal 2012. Quindi ancora una volta, questi sono fatti non veri. E poi sempre un altro libro, esempio Now, parla dell'economia ucraina come in continuo deterioramento. Dice che la crisi finanziaria del 2008 è stata molto grave in Ucraina, che è vero. Il Covid-19 ha peggiorato le cose, cosa non completamente vera. Anche se in realtà se uno guarda i dati dell'economia ucraina, con molte difficoltà, se uno guarda il PIL ucraino del 2021 era al suo massimo storico, cioè il PIL ucraino del 2021 era al massimo nella storia del paese. Ed era cresciuto, diciamo, significativamente dal 2014 ad oggi. Quando nel 2014, ricordiamo, la Russia si era occupata circa un 10-12% del territorio ucraino. Quindi l'Ucraina aveva perso 10-12% del proprio territorio, parte della propria popolazione e via dicendo. Ricordiamoci. Ed era un paese in guerra, già, perché a volte si dimentica. E poi veniamo al vituperato, la via della seta, che questo davvero spinge invece una narrazione quasi razzista dal mio punto di vista, davvero fastidiosa. Infatti la via della seta afferma che la disoccupazione femminile in Ucraina è indenica, dice che è sopra il 40%, che è un fatto completamente inventato, un dato completamente inventato. Come potete vedere nell'articolo ci sono i dati sulla disoccupazione, la disoccupazione femminile in Ucraina è del 7-8-9-10%. E, diciamo, negli ultimi anni è sempre stata più bassa di quella italiana, se proprio vogliamo andare a vedere, ecco. E poi, sempre a seguito di questa affermazione, viene detto, e qui cito testualmente, le donne ucraine emigrano in massa all'estero, dove lavorano per lo più come badanti e collaboratrici domestiche. L'Italia è una delle loro prime destinazioni. Anche qui, adesso, questo so che è uno stereotipo molto diffuso in Italia, ma se guardiamo ai dati, non è particolarmente vero, nel senso che l'emigrazione, come la chiamano loro, di massa, è un fenomeno che ha caratterizzato l'Ucraina tra il 94 e il 2002. Da 2003 in poi il tasso di emigrazione netto dell'Ucraina è positivo, nel 2014 ovviamente è peggiore, perché c'è la guerra, ci sono i rifugiati, ci sono i internal displaced, eccetera. Ma dal 2019 torna ancora ad essere, diciamo, più o meno intorno allo zero. Quindi l'emigrazione di massa è un fenomeno di circa 20 anni fa, ok? Nel 2021 in Unione Europea vivevano circa un milione e mezzo di ucraini, di cui circa 200.000, 230.000 in Italia, quindi sicuramente l'Italia è una delle mete, una meta significativa, ma non, diciamo, l'unica, ecco. E di questi un milione e mezzo, la metà sono uomini. Quindi il fatto che la maggior parte siano donne non è vero, e se andiamo a guardare la categoria di immigrati più diffusa in Europa, sono uomini tra i 30 e i 44 anni. Cioè, quello è il settore, è la demographic più rappresentativa. E i settori dell'economia in cui lavorano di più sono l'edilizia, il manifatturiero, l'agricoltura, la ristorazione, certo anche esiste anche i servizi domestici, eccetera, però riguarda in realtà un fenomeno molto preciso, molto legato all'Italia, l'ha detto, di un tipo di emigrazione molto precisa di circa 20 anni fa, non necessariamente dei giorni nostri, poi sono sicuro che qualcuno vi dice ma io conosco, ma se uno guarda i dati, così è. Grazie, grazie Ludovico per il tuo contributo e per la tua pazienza. Il debunking completo di questi libri lo trovate nell'articolo pubblicato sul sito di Liberi Oltre alle Illusioni, per il quale vi lasceremo ovviamente il link. A tutti voi che siete stati all'ascolto, l'augurio di un buon fine settimana, l'appuntamento chiaramente. E a sabato prossimo, a tutti una buona giornata.